Siamo notati Gesù e Maria. Allora, carissimi, oggi siamo vestiti di rosa, giusto? Sì. Perché? Perché? Difficile, eh? Pochetto. L'hai detto da sola o ti ho suggerito mamma? L'hai detta da sola. Ha detto perché è la domenica della gioia, quindi sapete che in avvento è viola e oggi è rosa. Come mai? Perché prima del rosa viene il viola. Sì, il senso è questo qui. Per trovare la gioia bisogna prima passare attraverso un po' di ricerche, un po' di fatiche, un po' di... Non è proprio immediata, però poi arriva la gioia. Guardate, guardate che bella questa domenica. All'inizio della messa, ce l'avete sul foglietto, io ho cominciato dicendo queste belle parole. Rallegratevi, attenzione, sempre nel Signore. Quindi l'allegria si trova, la vera allegria, nel Signore. Sapete, lo conoscete San Giovanni Bosco? Avete mai sentito parlare di San Giovanni Bosco? Un grande santo, era tanto vicino ai ragazzi, ai ragazzini ha fatto l'oratorio. Sapete che diceva San Giovanni Bosco? C'era due cose. Come si riconosce quando uno è santo? Che farà un santo? Che fa? Prega. Prega. Bene, poi? È buono. È buono, poi? Che altro fa? Da messa. Crede in Gesù. Crede in Gesù. Dice il rosario. Giusto? O dirà il rosario, no il santo. C'è la Bibbia. C'è la Bibbia. Poi che altro fa? D'agli. Guardate che San Giovanni Bosco non aveva tanto d'accordo, eh? Tutte queste cose qua. Sapete D'agra che si riconosce un santo? Sta sempre allegro. Non c'ha mai il muso. Mai. Allora ha una felicità. Hai capito? Hai capito? Hai capito bene? Voi conoscete qualcuno che sta sempre allegro? Pure papà e mamma, eh? Sempre sorridente. Non si arrabbia. Non si angoscia. Non si avvelena. Guardate che un santo è così, eh? Un santo è così. Un'altra cosa diceva San Giovanni Bosco. Il diavolo lo conoscete? Meglio non conoscerlo. Il diavolo è brutto. Pericoloso. Voi sapete che il diavolo va sempre al gradasso? È uno di quelli che dice io non ho paura di nessuno perché io sono forte, io governo il mondo, gli uomini sono tutti ai miei piedi, fanno un sacco di peccati e quindi a me non fa paura nessuno. No, il diavolo dice così, ok? Dice sempre così. Dice sempre così. Però lo sapete, San Giovanni Bosco invece diceva che di una cosa il diavolo c'ha paura? C'ha paura di gli angeli. C'ha paura di Dio? Beh, anche se non lo ammette. Ma c'ha paura pure di qualche cosa che riguarda noi, c'ha paura pure di qualcuno di noi. Forse, potrebbe averci pure paura di Dio, è una condizione però. È sempre San Giovanni Bosco, diceva, potrebbe andare a controllare i libri, non lo dico io queste cose qui, eh. San Giovanni Bosco è canonizzato, grande prete. C'ha paura? La stessa cosa da prima, eh. Diceva. Il diavolo c'ha paura della gente allegra. Attenzione, non dei deficienti che stanno in giro, che stanno sempre a ride come tanti cretini, non è in quel senso. Sono di quelli che sono allegri, come abbiamo detto prima, sono allegri perché hanno Gesù nel cuore, perché vivono con Dio. E guardate, questi non sono scherzi, vi faccio subito un esempio. E se muore tuo padre? No. Eh, che tristezza, no? Cioè, se muore mio padre, eh, eh, vabbè, io sto sempre allegro, ma se muore mio padre, speriamo che non muore, per carità, eh. Allora, st'allegria è vera quando è nel Signore perché non viene messa in crisi nemmeno dalle cose brutte. perché? More mio padre. A me mi è morto mio padre. Guardate che io muovo, vi faccio una confidenza. Prima che morisse con mio padre e mia madre, ogni tanto mi mettevo da solo, mi andavo a casa e dicevo, senti Pollyona, tu steffa, tu sei di cara gente, ma voglio vedere, me lo dicevo da solo, quando morono tuo padre e tua madre e tua, come reagisci? Vediamo? Vediamo che fai quando morono tuo padre e tua madre. Sono morti tutte e due. Siamo padre che mia madre. Io sono orfano ormai dal 2011 che è morta pure mia madre. È andata abbastanza bene, è andata. Poteva andare peggio, è andata abbastanza bene. Perché? Io sono stato davanti a cadamere di mia mamma per due giorni. i miei fratelli, perché il vescovo poteva farlo subito, ma sono stato due giorni così. E me la guardavo con attenzione, mia mamma. E mi ricordavo tanti momenti belli della vita, no? Io non ho fatto manco una lacrima. Ma non perché non le volessi bene. Guarda, io non immaginavo che piangevo facendo la lacrima. Numero uno, perché ero contento per lei. Perché la morte non è la fine di tutto. Lei con la morte ha cominciato a vive. Io non c'ho nessun dubbio su questo. Uno. E non c'ho nessun dubbio che io e mia mamma la rivedrò. E la rivedrò meglio di come la vedo qui, perché quando stavano qua sulla terra, ogni tanto ho fatto arrabbiare la mia madre. Purtroppo. Eh, purtroppo. E quando staremo con lui, tutte le miserie legate alla vita terrema spariscono tutte quante. E rimarrà solo la parte più bella di noi stessi. Ha capito? Perché uno sta sempre allegro? Se uno sta sempre allegro, se muore tuo padre, non è che fa la festa, perché uno mica è deficiente. Che sta a fare la bottiglia di giù, che bello, è morto mio padre. Questo non è uno che è allegro, questo è uno che è scemo. ci va a portarlo a ricoverasse, da un euro, ok? Eh sì, è scemo. Però, non è che uno comincia a piagere, a si rispondere, è morto mio padre, e me che faccio? Perché questo lo fa chi non ha la fede. Chi ha la fede, un pochino soffre, d'accordo? Perché l'allegria è compatibile col soffrire un pochino, ma soffre in maniera composta. Soffre vicino al Signore, dice al Signore, vabbè, ti ringrazio che tu me l'hai donata, ti ringrazio per tutto il tempo che è stato con noi, adesso so che sta con te. Casomai faccio un pochino di preghiere, perché se dovesse passare un po' di purgatorio, la mandiamo in paradiso il più presto possibile. E poi arrivederci, d'accordo? Arrivederci, goodbye, non farewell. Noi non diciamo, cioè, addio, se vuole pure di, sapete che l'etivoluzione del termine addio è ci rivediamo presso l'altissimo. Voi capite se uno ci credesse veramente, capito? Perché il Santo sta sempre nella gioia, perché quando le verità di fede diventano proprio una cosa profonda, io ci credo proprio tanto, non è una cosa tanto per di, io racconto sempre, sapete, racconto questo e poi basta che pure troppo, era appena diventato prete, data qualche mese, il padre come dice, dammi una mano a portare la comunione ai malati, mi manda a portare la comunione ai malati, cosa che io ho sempre fatto, guai. Arrivo da uno che stava, questo stava messo proprio male, era anziano, stava male, stava a soffrire, e questo comincia a fare, padre io non ce la faccio più, stavamo sempre a soffrire qua, io mi sono stufato. E io insomma, ero un giovane prete, quindi non sapevo manco che dire, stavo pure un po' di imbarazzo, ma mi viene da dire, dico vabbè, dico vabbè, ma adesso sì, cerchi di portare un po' di pazienza, però ricordiamo sempre che nella vita eterna ci attende la pienezza della felicità, della gioia, e anche questo nostro corpo che qui soffre, un giorno parteciperà della tua risurrezione. Questo me guarda, e me fa, eh? Dico, eh, dico, lei è battezzato, moglie, adesso dalla comunione, lei ci crede a ste cose, no? Mi guarda e me fa, ma davvero? Poi lo fa, ma speriamo, è chiaro che se uno pensa così, non c'è una fede ruspante, bella, e allora questo non è che sta sempre nella gioia, perché poi le disavventure della vita, le disgrazie, le malattie, i lutti, non sono cose gradevoli, e ti possono abbattere, ma se uno ha la fede, la fede sta sempre nella gioia. Certo, questo non si improvvisa, perché dobbiamo far scendere Gesù profondamente, 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 questo si ottiene piano piano col tempo, però se lo otteniamo, ecco perché San Giovanni Bosco diceva, da che non riconosci in santo, sì, le fa tutte quelle cose, prega, 200 rosari al giorno, fa messa dalla mattina, alla sera, alla notte, fa tutto quello, ma la cosa fondamentale, perché si possono fare anche tutte queste cose, c'è gente che dice rosario tutti i giorni, sta con muso lungo fino ai piedi, se lo vedi, te ne voglio da diventare ateo, capito, non è che dici, oh mazza questo, se invece tu vedi uno che sta bene, dici, questo sta così bene, poi dice, ma lo sai io dico 4 rosari al giorno, ma è simmatto, e come fa questo di essere così contento di 4 rosari al giorno, ti fai due scatoli che finiscono mai, di 4 rosari, 200 rosari che finiscono mai, e questo però sta così contento, capite? Se uno è nella gioia, chi te vede dice, senti un po', che hai fatto per essere così, e probabilmente comincerà a cercare il Signore avvicinarsi, capite? ma se uno sta col muso lungo, vuol dire che il Signore ancora non è sceso, non dobbiamo sentirci in colpa, dobbiamo però essere capiti, cerchiamo di farlo scendere un po' di più, ecco perché prima della Domenica della Gioia c'è la vigilanza, c'è la conversione, domenica scorsa, questo lo dico anche per i grandi, perché se non stai nella gioia, c'è qualcosa che non funziona, cioè probabilmente stai addormentato dentro tante dimensioni mondane, preso da tante cose, il lavoro, la vita, oppure su tante cose ancora devi convertire, ma se arrivi a queste cose e incontri il Signore e c'è la gioia nel cuore, non te la toglie nessuno, non vi racconto, ve la racconto un'altra volta, la morte da santo del mio miglior amico per capire cos'è la gioia, uno che muore a 23 anni col sorriso sulle lambra, però vuoi stare a racconto un'altra volta, siamo notati Gesù e Maria. Grazie.